Pierluigi Bassignana, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare un libro veramente molto particolare. Noi ci siamo trovati insieme con Pierluigi Bassignana, nemmeno poi così tanto tempo fa, a raccontare, era il mese di dicembre, e siamo andati in giro perché Pierluigi Bassignana ci ha portato in giro per Torino in carrozza, partendo dal libro che ha pubblicato dall'edizione Capricorno Torino in carrozza, in sostanza che cosa ha fatto Pierluigi Bassignana? Ha raccolto tutta la storia del trasporto pubblico dal tramvai alla metropolitana e adesso, lasciato il tramvai, lasciato la metropolitana, Pierluigi Bassignana ci porta ad attraversare un altro spirito narrativo, questa volta grazie ad un libro di Edmondo De Amicis. Edmondo De Amicis tutti quanti conosciamo cuore, ovviamente, ma Edmondo De Amicis non è stato solamente l'autore di quel libro, seppur straordinario. Nella collana Capolavori ritrovati, pubblicata dalla casa editrice torinese Capricorno, amore e ginnastica è sicuramente un elemento importante. Ricordo, tra l'altro, che in questa collana dei capolavori ritrovati troviamo Ciao Masino, Cesare Pavese, con il contributo di Massimo Tallone, poi Guido Gozzano, l'altare del passato, e poi Carolina Invernizio, Nina, la poliziotta dilettante e così via. E adesso andiamo, insieme con Pierluigi Bassignana, a spigolare in questo racconto, che è definito, in questo romanzo breve, definito breve, ma raggiunge comunque le 180 pagine. E quindi, dal mio piccolo punto di vista di lettore, questo romanzo non è breve. Secondo lei, Pierluigi Bassignana, partiamo proprio da questa considerazione molto bassa. È un romanzo breve oppure no, amore e ginnastica? Direi di no. Amore e ginnastica, secondo me, è un romanzo completo che, per la verità, nasce in maniera abbastanza, come dire, tradizionale, perché nasce raccontando un amore non corrisposto, come in precedenza era già avvenuto con altri autori molto più importanti di amici, penso ad esempio a Goethe o a Ugo Fosco. Mentre invece qui si racconta la storia di un giovane torinese che ha mancato l'esperienza da sacerdote perché era stato per un paio d'anni in convento e poi è tornato privato cittadino, lavora per un uzzio presso il quale abita anche una giovane fanciulla della quale lui si innamora. La storia, come dico, è tradizionale, ma il racconto no, perché non tanto per lui, non tanto per il protagonista maschile, quanto per la ragazza, per la protagonista femminile, la maestra Pedani, che nel racconto viene presentata come una appassionata, una donna moderna, una donna in qualche misura spregiudicata, diversa da tutte le donne del suo tempo, soprattutto diversa dalle torinese di quegli anni. Il libro esce nel 1892, ma le torinesi di quel periodo non erano così aperte, così pronte a fare ginnastica, così pronte a muoversi. Erano, almeno come racconta il professor Angelo Mosso, che era professore di fisiologia negli stessi anni in cui viene scritto il racconto di amore e ginnastica, le donne spregnese erano piuttosto magroline, smilze e un pochino poco carine, poco graziose. Anche perché c'era l'idea che le donne non fossero adatte per fare scorti fisici come quelli che la ginnastica avrebbe potuto richiedere. Invece, De Amicis con questo libro racconta, spiega che proprio la ginnastica è quella che migliorerà le condizioni di vita delle persone e soprattutto delle donne. Ma non è la prima volta che De Amicis parla di trattare l'argomento dell'ediatica. Già in cuore c'era stato un breve episodio nel quale i ragazzini protagonisti si erano cimentati in palestra, rafficandosi su delle corde e su dei pali. Ebbene, da quell'esperienza venendo avanti, arrivando al nostro racconto, tra quell'esperienza e il nostro racconto è successo una cosa, ad Orino è successo una cosa molto, anche a Torino, è successa una cosa molto importante. Si è scoperto il ciclismo, che è la prima vera novità del tempo. Nel 1884 Torino, in occasione dell'esposizione organizzata quell'anno, a Torino si celebrano le prime gare cosiddette internazionali, ma in realtà solo tra regioni italiane, quasi solo tra regioni italiane, per la pratica del ciclismo. Era ancora il ciclismo, quello delle biciclette con la ruota grande davanti e quella piccolissima dietro. Solo successivamente, e quindi negli anni del racconto di amore e ginnastica, nasce la bicicletta di uguale ruote, della quale la maestra Bedani, la protagonista del racconto, è assolutamente, non solo la conoscenza, ma pur non essendo una praticante della bicicletta, è informatissima delle gare, dei campioni, di tutto quello che la riguarda. Quindi è un elemento in più che si aggiunge a tutto il resto. Ecco perché in qualche misura il racconto di questo racconto è all'origine della Torino moderna, la Torino che ormai ha abbandonato il retaggio della capitale, della città che aveva i ministeri e le ambasciate e si sta trasformando nella metropole industriale quella delle ciminiere e delle aziende, delle fabbriche. Lei poco fa ci ha detto che questo libro è stato pubblicato nel 1892, però spostiamo ovviamente il nostro pensiero critico dal 2024 al 1892. Questo libro è stato pubblicato quasi clandestinamente, proprio perché i temi sollevati erano dei temi molto particolari. E sebbene Benedetto Croce avesse avuto a dire che De Amicis non era un artista puro ma uno scrittore moralista, ora l'aggettivo moralista qui viene completamente ribaltato e ribaltato perché l'immagine dello scrittore zuccheroso di Tascalico moraleggiante che era stata ovviamente cristallizzata da cuore ma non solo, come dicevo viene qui ribaltata ed è un'intenzione molto importante, molto moderna allora ed era anche molto avanzata perché anzitutto parlava di rapporti che a quel tempo non erano sicuramente ben visti né consentiti, parlava di una donna che era protagonista nel mondo della ginnastica e così via quando invece a quel tempo la donna a casa doveva stare a rammendare semmai dei calzini. Ecco, Edmondo De Amici straguardava un tempo futuro per la donna ma non solo. Io direi che in quel libro Edmondo De Amici anticipa in qualche modo il movimento femminista, se vogliamo vederlo, anche in questa luce. D'altra parte la novità rappresentata da Amore e Ginnastica era già stata individuata da Italo Calvino che l'aveva pubblicato quasi clandestinamente in una colonna di innauti. E quindi Italo Calvino lo considerava il romanzo più bello, certo più ricco di humor, malizia, sensualità, acutezza psicologica che mai scrisse Il mondo De Amici. Ora, Pierluigi Bassignano, prendiamo proprio spunto da questo giudizio di Italo Calvino che non era un giudizio campato così a caso. Ecco, quando Italo Calvino parla di acutezza psicologica io vorrei soffermarvi proprio su questo aspetto che per me, da lettore confuso e anche distratto, mi sembra molto importante perché questa storia non è semplicemente una storia di un amore diverso dal solito ma quello che l'esercizio narrativo e fortemente psicologico che fa Il mondo De Amici è curare i caratteri delle figure. Ora, questo è veramente uno scavo psicologico che a quel tempo non era ancora così almeno per la letteratura italiana, certo se ci scontriamo con altri scrittori certamente lo troviamo tanto per citarne uno, Baudelaire oppure se vogliamo andare ancora più indietro però questa caratteristica psicologica è sicuramente un elemento fondante cosa ne pensa? Sicuramente perché in effetti il libro si gioca tutto sulla psicologia la psicologia dei due protagonisti ma anche la psicologia dei comprimari di quelli che si è ruota d'attorno ai protagonisti gli altri attori del racconto il che offre anche tra l'altro questo è un altro aspetto interessante uno spaccato della società torinese da quell'epoca della società torinese non delle periferie non della zona degradata ma della zona, diciamo, bene che era una società assolutamente integrata al primo piano abitava il proprietario delle stabili al secondo abitavano professionisti impiegati e cose del genere al terzo piano abitavano operai al quarto piano nelle manzate che era il quarto piano abitavano il personale di servizio delle fasce inferiori era una società molto complessa diciamo non era così spazionata e divisa come quella di oggi ricchi da una parte e poveri dall'altra era una società dove gli uni e gli altri in qualche misura si mescolavano veniamo a parlare per Luigi Vassegnana ancora di quella figura a cui lei ha già accennato la maestra Pedani in quel suo giovanile sportizzato turgore bella spalla braccio poderoso corpo di guerriera proporzioni schelettoniche perfette ora se qualche ascoltatore dice ma di che cosa state parlando? oggi come oggi c'è un'altra espressione ci si esprime diversamente ma dobbiamo pur sempre riportare indietro il nostro pensiero critico e l'idea che questo romanzo è stato scritto a fine ottocento e quindi era molto bella dunque la maestra Pedani talmente bella che a questo punto l'innamoramento l'innamoramento non poteva che giungere ma è stato un innamoramento molto particolare per Luigi Vassegnana certo molto particolare perché alle professe alle profferte da parte maschile da parte del protagonista non corrispondeva assolutamente l'offerta diciamo così della della protagonista femminile della maestra perché come dice un altro protagonista del racconto compito delle maestre di ginnastica non è quello di fare figli ma è quello di raddrizzare i figli degli altri questo è un po' il succo se vogliamo del racconto di Diannice anche qui Pierluigi Bassignana c'è un'anticipazione dei tempi straordinaria perché se pensiamo i figli di quel tempo avevano un sentiero una strada ben definita e il mondo dei amici si invece spariglia le carte grazie anche alla protagonista pedani ma non solo e quindi ci presenta un modello di società sicuramente controcorrente ma prima di chiudere questa nostra questa nostra breve conversazione intorno al romanzo amore e ginnastica di cui Pierluigi Bassignana ha fatto ha realizzato un contributo critico all'interno del libro pubblicato da Capricorno io vorrei chiudere con la bicicletta visto che abbiamo aperto la nostra conversazione parlando di Torino e della storia che lei ha scritto adesso parliamo della bicicletta a cui lei ha fatto riferimento perché perché a Torino a Torino c'era uno stabilimento quello se ricordo bene di Giovanni Ceirano da cui uscivano delle biciclette udite udite che pesavano semplicemente 11 chili e quello da corsa soltanto 8 ora io devo dire che sono dei pesi che forse nemmeno oggi le nostre biciclette normali hanno quindi erano delle biciclette anche qui fortemente moderne ma guardi devo dirlo per il repio tengo non solo delle biciclette ma anche delle condizioni delle strade bene in occasione dell'esposizione del 1898 sempre qui a Torino quella che c'è l'esposizione che celebra il cinquantenario dello statuto albertino in quell'occasione viene organizzata una corsa ciclistica fra Torino e Rivoli andata e ritorno sono 35 chilometri la corsa si svolge nel giro di 1 ora e 15 minuti non è un tempo pazzesco è un tempo più che ragionevole oggi non tanti ciclisti sarebbero in grado di copia nello stesso percorso andata e ritorno in un tempo così breve tenuto conto che la strada fra Torino e Rivoli anche se non sembra è in notevole salita ma questo è vero non l'avevo mai considerata questa salita di cui lei sta parlando Pierluigi Bassignana e quindi la bicicletta che non è più solamente dedicata a frequentare i velodromi ma anche anche per le strade intanto è vero che si legge prego sempre nel 1898 per l'inaugurazione dell'esposizione la carrozza con Re Umberto e la regina Margherita circondata dai corassieri a cavallo eccetera è preceduta da un plotone di vigili urbane i civic di Torino in bicicletta e quindi hanno inaugurato l'esposizione nazionale per celebrare il cinquantenario dello statuto albertino con questa inaugurazione con Re Umberto e la regina Margherita ricordiamo al parco del Valentino per questo appuntamento straordinario Pierluigi Bassignana ma lei è un pozzo veramente di informazioni al di là di amore e ginnastica di cui ci ha raccontato in questa conversazione il libro di Edmondo De Amicis con una lettura ricordo di Pierluigi Bassignana pubblicato da Capricorno e adesso prima di salutarci qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni ma in questi giorni qua sto rileggendo un libro che è stato ripubblicato recentemente ma in realtà ha più di un secolo di vita ed è Gente di Dublino di Joyce Lei ha la dizione del saggiatore di Gente di Dublino Sì Quella nella traduzione di Enrico Terrinoni se ricordo bene Enrico Pedone e Franco Terrinoni E che cosa ci dice brevemente di questo libro di James Joyce? Ma lo so appena iniziato e quindi e chiaramente ripercorre temi che poi arriveranno poi anche nell'Ulisse qui evidentemente però sono storie diverse storie secondo me più ingenue di Ulisse quindi tutta un'altra un'altra cosa per quello che lo leggo volentieri come mai più ingenue perché è un libro precedente oppure oppure no perché è un libro precedente e i Dubliners sicuramente è il primo libro è il primo libro la prima prova letteraria di Joyce ed è una prova letteraria straordinaria Gente di Dublino è un capolavoro giovanile no ma poi questa edizione con tutte le note critiche che contiene è estremamente interessante perché molti passaggi il lettore comune come posso essere anch'io molti passaggi non li coglierebbe se non avesse la nota che gli sottolinea e Fabio Pedone nella cura di questo libro ha fatto un lavoro straordinario e anche Enrico Terrinoni insieme hanno fortemente lavorato alla cura e alla produzione di note che non sono note tecniche ma sono note che ci permettono di entrare nel respiro narrativo complesso di Joyce di capire cosa dice il racconto di andare al di là delle parole scritte ecco e questo mi sembra una cosa molto molto interessante andare al di là delle parole scritte perché la parola di James Joyce è sempre una parola che supera lo spazio bianco della pagina ed esce ed esce ed esce dalla pagina intanto grazie grazie davvero Pierluigi Bassignana buona serata buona giornata scelta buona giornata Grazie.